segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te scienza e quindi ha ragione perché un reato basta dire calmati toni se è un reato e giù e si appurirà che è un reato comunque altro che sia un reato e tutti pensiamo che lo sia lei compresa anche giuli lo penso penso che ci sia un giurio penso penso che c'è un giurio all'opera aspettate aspettate dice